Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo alla Fraschetteria Trearchi e vi faccio vedere sta super padellona di carbonara col tartufo Iniziamo va, ovviamente pasta fresca quindi i tonnarelli li mettiamo nel guancialotto croccante e li saltiamo Regà, è fondamentale, va mantecata la pasta, poi carbocrema, guardate quanto è bella già, l'altro pecorino, altro guanciale E poi arriva lui, tartufo a scaglie, che spettacolo, seguiteci per altre porcosità